sono qui da beauty nail a farmi coccolare per provare un trattamento nuovo che consiste in una pulizia del viso aspirazione di punti neri e cavolate varie e vitamina c per rendere la pelle più splendente vi farò vedere tutto in corso d'opera penso che adesso iniziamo con la pulizia del viso la pulizia del viso la pulizia del viso